Quello che ti propongo con questo video è di comprare un mio prodotto. Il mio prodotto è lo storytelling. Beh, tu dirai, ma ne ho viste tante di storie e di narrazioni. E io ti rispondo, sei sicuro? Sei davvero sicuro di aver visto delle storie? Prendiamo il campo della pubblicità. Molto spesso si vedono dei prodotti che sembrano raccontare delle storie, vengono chiamati storytelling, ma a che cosa servono? Servono in realtà a colpire, servono in realtà a trasmettere qualche cosa di eclatante, servono a portare al tuo cliente o ai tuoi futuri clienti un'immagine precisa, un'emozione, il qui e ora di qualche cosa che tu stai facendo. Cioè, detto in altri termini, servono a trasmettere delle emozioni. Sono filmati? Sono storie? Sono racconti? Sono spezzoni? Piccoli clip emozionanti? Fotografie di impatto? Disegni, poster, comunicazioni di effetto? Certo che lo sono. Lo sono. E sono anche necessarie. Sono anche necessarie perché se tu vuoi dare un messaggio, un messaggio che colpisca, un messaggio che arrivi, che richiami l'attenzione del tuo cliente, beh, tu devi fare questo. Devi fare una comunicazione pubblicitaria. Una comunicazione pubblicitaria che è fondata su determinate emozioni. Bene, lo puoi fare questo. Tu non ricordi delle emozioni che hai provato occasionalmente di fronte dei messaggi pubblicitari o a determinati film o libri che hai letto. Non ricordi le singole emozioni. A meno che queste non siano legate a una struttura di sentimento duratura. Allora sì. Allora anche le emozioni vivono nel tempo di questi sentimenti. Dunque che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che fondamentalmente la comunicazione si divide in due campi. Un campo nel quale è fatto di tutto per emozionare, colpire, sparare, suscitare effetti speciali per poter catturare le persone, per poterle catturare quell'istante. E c'è un altro campo con il quale invece si costruisce. Si costruisce un'attività. Un'attività tra una persona, un'altra persona, in questo caso tra te e il tuo possibile cliente, si costruisce un'attività comune. Oh bella, tu mi dici ma che attività comune si costruisce? Perché io produco, quella persona compra e questa è l'attività che intendi? No. Questo tipo di attività riguarda il primo campo. Io emoziono, stupisco, porto all'acquisto, poi vengo dimenticato, poi vengo paragonato a tanti altri che producono la stessa cosa. Secondo caso, io costruisco, racconto, catturo la persona perché questa persona vede che c'è qualche cosa di più importante che non delle semplici emozioni, acquisterà i miei prodotti, ma li acquisterà non perché è folgorata sulla strada di Damasco in quel momento, ma perché abbiamo costruito un rapporto ed è un rapporto attivo. Perché il racconto, il racconto, la narrazione sono circolari, io dico qualche cosa, la persona aggiunge qualche cosa d'altro. Vedi, io mi trovo qui in quest'angolo, questo è un angolo di casa mia, avrei potuto essere in un ufficio, anzi mi hanno proposto di realizzare questo filmato in un ufficio, una bella scrivania, davanti a una bella scrivania, magari un po' vuoto, minimalista, con pochi oggetti, ma di che cosa io avrei parlato in quella condizione? Io in quella condizione avrei parlato semplicemente di che cosa produco e del perché a te potrebbe interessare, cioè avrei cercato di vendere il prodotto. Beh, tu mi dici, ma hai detto all'inizio che questo video serve per vendere questo prodotto? Certo, perché voglio essere onesto, serve per questo, sono qui per vendere quello che faccio. Ma questo non basta, non basta. Io voglio che tu capisca che dietro quello che io faccio c'è una storia e allora abbiamo qui degli oggetti. Degli oggetti che a te cosa rappresentano? Rappresentano degli oggetti. Questa stampante è una stampante. Questo frigorifero, che sarà strano forse trovarlo in questo ambiente, è un frigorifero. Questi sono dei libri. Che cosa ti possono rappresentare se non una stampante, un frigorifero e dei libri? Ma per me, per me sono delle storie. Dietro ogni oggetto c'è qualcosa. Tu non lo sai che cosa c'è, io sì, tu no, ma nel momento in cui tu mi vedi qui, nel mio ambiente, fra gli oggetti che io amo e che ricordano anche le persone che io amo, tu capisci qualche cosa che va al di là di quello che io produco. Tu capisci che io sono un essere umano con la sua storia. E se questa storia è una buona storia, se questa storia è una storia ricca di sentimenti, se questa storia è una storia ricca di passioni, di cura per le persone, allora tu capirai anche che qualsiasi cosa io produca questa cosa avrà un grande risultato e sarà arricchita, sarà valorizzata da tutto questo che oggi qui, in questo piccolo spazio, mi circonda. Se tutto questo non ci fosse, tu vedresti solo un prodotto. E come lo giudichiresti? Prendiamo il caso delle automobili, le automobili, prendiamo questo caso, la produzione automobilistica. Vedi, dietro ogni comunicazione che ha a che fare con la produzione automobilistica, si dice che ci sia una storia che viene raccontata e allora tu vedi queste bellissime automobili, tenere la strada, fare delle curve in paesaggi incredibili dove forse ti piacerebbe anche andare. Ma queste storie raccontano tutte una sola identica storia. La storia della bellezza di questa automobile, la storia delle cose incredibili che può fare e grazie a questo tu sarai spinto ad acquistarla. Ma questo vale per un marchio, vale anche per il marchio Y, vale per il marchio Z, vale per tutti i marchi. Una persona non vede, non legge, non ascolta una storia perché mette in mostra un prodotto. Lo fa perché ci sono degli effetti che la catturano, certo, ci sono degli artifici, delle magie che la tengono attenta per alcuni secondi, forse alcuni minuti. Ma le persone ascoltano le storie perché si identificano non con l'oggetto ma con altre persone, con altri esseri umani. Tu puoi vedere un film di automobili, è stato realizzato, vedi questi automobili che parlano, vedi questi automobili che esprimono dei sentimenti, si innamorano, corrono, fanno delle cose, si stupiscono, devono affrontare degli ostacoli. Sono automobili? No, non sono automobili. Queste sono persone, sono oggetti antropomorfizzati, cioè sono oggetti che hanno delle caratteristiche umane ed è per questo che questa storia piace. Ed è per questo che un bambino, ma anche la sua famiglia, quando vanno al cinema e vedono questo bellissimo film in 3D, si identificano con questa storia. Ma nessuno si identifica in un'automobile se quest'automobile non rappresenta da un essere umano, se non condivide le sue stesse sensazioni, le sue stesse emozioni, sentimenti, se non è antropomorfizzato. Gli esseri umani si identificano e seguono solo le storie di altri esseri umani. Il perché è semplice? Perché pensano che il mondo possa essere migliore, possano esserci delle sfumature o addirittura delle prospettive radicalmente diverse, che loro non possono immaginare nel loro ambiente. E per questo le storie raccontano sempre dei valori universali, ampi, grandi, nei quali tutti si possono identificare. Questo è lo storytelling che io vorrei fare con te.